Sono Vincenzo Iannucci, tecnico del mulino caputo, nuvola specialist. Oggi vi parleremo del delivery. Per avere una visione futuristica di quello che è il delivery, ho studiato quattro punti da proporvi. Primo, impasto. Secondo, cottura. Terzo, equilibrio. Quarto, comunicazione. Per chi utilizza il metodo diretto, dove tutti gli elementi di un impasto vengono messi insieme nell'impastatrice, vi consiglio di utilizzare una tecnica innovativa, ovvero la tecnica del ciclo termico, dove per all'incirca per tre ore il nostro impasto lo manteniamo a temperatura ambiente in massa, dopodiché faremo lo staglio e andremo a riporre il nostro impasto in frigo per all'incirca 18 ore, così da avere una gestione semplice e un morso scioglievole. Invece, per chi utilizza il metodo indiretto, io consiglio un prefermento innescato dal 20 al 30%, così da ottenere maggiore chef life, quindi conservabilità del prodotto, maggiore digeribilità, aromi e profumi. La cottura, elemento fondamentale del nostro delivery. Onde evitare di consegnare una pizza gommosa a casa, dobbiamo asciugare in maniera perfetta la nostra pizza. Equilibrio nei condimenti, sì. Io vi consiglio di adottare una numerica, la numerica del 7. 7 grammi di olio, 70 grammi di pomodoro, 70 grammi di mozzarella, così da riuscire ad avere poi un punto essenziale per andare a comunicare quello che ne facciamo. Come? Con un QR code sul nostro cartone, dove possiamo descrivere la nostra storia, la storia della nostra pizzeria, i prodotti e la ricerca che noi facciamo per arrivare a un prodotto realmente eccellente.